Che c'è? Non ho fatto niente, fammi. Non ho ancora fatto niente. Sono qua buona buona. Ok, se n'è andata. Inizia il mio secondo piano. Quello di entrare in questa scatola. Un rumore. Facciamo finta di niente, facciamo finta di niente. Ok, iniziamo. Cerchiamo di trovare l'escamotage perfetto per riuscire ad entrare in questa scatola senza farci udire della pazza. Un altro rumore. Mi devo muovere. Devo fare tutto in silenzio, in estremo silenzio, perché sono un ninja. Poi finta di niente. Ma che buon profumo che ha questa scatola, mamma. Ecco, adesso cerchiamo di capire bene come entrare in questa scatola il più velocemente possibile prima che arriva. E inizia ad arrivare di matto. Che poi, scusate, eh, ma precisiamo, non è colpa mia se lei lascia le scatole così incustodite, porca miseria. È più forte di me, ragazzi. Mi parte l'embolo. Mi parte proprio l'istinto di poma. Cioè, io devo andare, devo esplorare, devo cacciare, devo scavare. E in questo momento devo entrare in questa scatola e, ha, ha, ce l'ho fatta, cretina. Perché non ce la fai, controchina. Non ce la fai, vincerò sempre. Io, io. Arriva, mi ha sgamato, mi ha sgamato, mi ha visto, mi ha sentito e... Ciao, mammina. Senti, vorrei iniziare a farmi la morale, ok? Non è mica colpa mia. È colpa tua, hai lasciato la scatola incustodita e mezza aperta. Quindi non mi toccare, inizia a mettere posto. Perché sì, quello è il tuo, ma io ne di certo non sarò io quella che si metterà a piegare. Quindi inizia e comincia da adesso.